Dopo i pullman e i camion tra le barriere del ponte della Vecca è finito anche un elicottero. Il velivolo, proveniente da Salerno, era trainato da un furgone su un carrello, ma il conducente non aveva fatto i conti con la trappola del vecchio ponte. Il fatto è accaduto l'altra sera attorno alle 18 e moltissimi automobilisti sono rimasti incolonnati fin dopo le 19 quando finalmente è stato liberato il passaggio. Secondo quanto ha riferito l'automobilista che ha scattato queste foto, i conducenti del furgone avevano anche tentato di misurare il passaggio e l'elicottero per capire se c'era qualche possibilità di passare, ma alla fine hanno desistito e sono tornati indietro. Come noto, per limitare l'accesso ai mezzi pesanti per problemi strutturali, la provincia di Pavia ha posizionato queste barriere, ma l'imbocco sulla sponda oltrepadana nella frazione Tornello di Mezzanino risulta molto insidioso a causa della segnaletica scarsa e dell'assenza di una rotatoria per fare inversione in sicurezza, problemi di cui si sta discutendo da tempo ma che evidentemente non hanno ancora trovato una soluzione definitiva.